Amici di ON TV, buonasera e benvenuti nella nuova puntata di Che calcio vuoi? Oggi puntata, amara, amarissima, abbiamo perso il derby 3-0 in quel di Perugia, ci sarà tanto da discutere sul come e il perché, lo faremo come di consueto con Gigi Manini, buonasera e Gianni Giardinieri, buonasera, Gigi io ti lascio subito l'editoriale, non ti imbecco perché già so che stai carico a Pallettoni, per cui vai! Beh, cerchiamo di mantenere, intanto voglio fare una precisazione Dittelo da solo No, intanto voglio fare una precisazione, quello che dirò è quello che posso dire in televisione, ma chi mi conosce non è quello che in realtà penso, perché userei ben altri termini La versione officiale Allora, parlando della partita, devo dire che nel primo tempo, che se ne possa dire una volta visto il risultato, la Ternana secondo me non aveva fatto brutta figura, anzi forse, forse, dico forse, aveva giocato anche meglio del Perugia, aveva costruito qualche buona occasione Dopo alla fine anche il Perugia ha avuto un baglio di occasione con Di Carmine, devo dire, su una bravo Gianni Rilli, sull'altra ha sfiorato la traversa Però la Ternana in precedenza, un baglio di occasione, una con Valletti che non ha tirato, un'altra con Bartipilo con un sospetto fuori gioco, poi c'è il gol annullato a Bartipilo Che sinceramente grida vendetta, ma poi magari faremo un inciso su questo Certo, poi c'è il gol del Perugia Tutti lo sappiamo Tutti lo sappiamo, tutti lo sappiamo, no? Che i derby, io ho giocato Piediluco, Marmore e Gabelletta Eh, dico scusa, è con l'estate d'orozzina, però sono sempre i derby, chi segna per primo in genere li vince Sono tantissimi questi derby No, sono sentiti ma non a questo livello, vi dico la verità E allora, dicevo, tornando al derby, che chi segna per primo, come è successo un po' a Galandale Il Perugia, sbagliato io, non abbiamo segnato, abbiamo vinto Chi segna per primo in genere li vince E devo dire che il Perugia l'ha segnato per primo con un gol, secondo me, palesemente irregolare O perlomeno irregolare almeno quanto quello che è stato annullato a Bartipilo nel primo tempo Dopo l'1-0, però, questo per non accampare scuse, devo dire che la Ternana si è sciolta E questo va, insomma, hai fatto un tiro con Falletti, il gol con Defendi annullato Certo, non la Ternana nel primo tempo che era sembrata molto migliore Comunque diciamo che dopo il vantaggio Dopo il 2-0, allora lì sì Dopo il vantaggio il Perugia ha legittimato, diciamo, la vittoria C'è da dire però, ma questo non per accampare scuse o dare, come posso dire, giustificazione ai giocatori Che la squadra era molto rimaneggiata Ringraziamo sempre Leone e il Presidente Poi durante la partita abbiamo avuto anche due infortuni abbastanza importanti Con Ghiringhelli, è dovuto entrare Mazzanani che non aveva mai giocato E poi è uscito anche Mantovani, sono senza importanti Tra l'altro di tanti giocatori c'era Colibbari in panchina e Anderazzoli non si era sentita di sierarlo Quindi non lo riteneva in gran forma È entrato Donnarumma che rientrava dopo 4 mesi Quindi qualche attenuante c'è Questo però non cangella una sconfitta Lo dicevamo prima della missione, un conto perdere 1-0 Un conto perdere 3-0 in quel modo Poi il terzo gol La nostra squadra è stata di una arrendevolezza incredibile L'ultima cosa però che voglio dire è che Sono molto arrabbiato con l'arbitro perché ha giudicato come al solito Due episodi uguali in modo diverso Però noi ce lo meritiamo pure Perché la nostra squadra bisogna che un pochino si faccia sentire Me la prendo un po' col capitano ma me la prendo con il giocatore di maggiore esperienza Ho visto che il Parma dopo il gol annulato a Palumbo Che poi su quello sarebbe da parlare Ha cerchiato l'arbitro Noi segna partipilo, gol regolare e nessuno dice nulla Prendo il gol in quella maniera con un'azione da rugby Con due o tre falli uno appresso all'altro E nessuno dice niente Poi alla fine sento e chiudo Un ragazzo come Paghera che tra l'altro è anche dirigente E' l'unico che ci mette la faccia E glielo riconosco che fa i complimenti al Perugia Forse non abbiamo capito che cosa significa il derby per i Ternani Poi c'è il Presidente che fa il video che ride Ridi un po' Gianni Allora prima sulla partita Non c'è molto più da dire Io dico solo una cosa sul match di sabato Che il Perugia devo riconoscergli C'è avuto più determinazione Più voglia di vincere Perché questo non l'hai sottolineato Gigi Più voglia di vincere Più determinazione Più capacità di corsa Di ritmo Di lottare su ogni pallone E che noi non abbiamo avuto Al di là del fatto che poi sono d'accordo Sullo svolgimento del match Sul fatto che nel primo tempo Forse noi abbiamo giocato meglio Loro però Probabilmente hanno avuto delle occasioni più pericolose Ma al di là di questo Quello che non mi è piaciuto È stato l'atteggiamento Che fin da Diciamo l'arrivo in campo Che ho visto e il riscaldamento della squadra Si percepiva che Non c'erano diciamo le condizioni Per fare bene Poi quando vedi Dopo l'1-0 Che la squadra Fa un po' di reazione E poi si lascia andare E mancava ancora mezz'ora Insomma questo non è accettabile Perché in una partita come il derby Le motivazioni E come dire La voglia di lottare su qualsiasi pallone Fanno la differenza Non è un caso Quando si dice Sarà un modo di dire Ma quando si dice Che nel derby le differenze si annullano Questo si intende Che tecnicamente poi Ci sono delle A meno che non sei Torino-Juventus In cui la Juventus Vince quasi 30 su 29 su 30 Però Quando un derby È abbastanza equilibrato La differenza La fanno La fanno le motivazioni La fanno la voglia di vincere La fanno la corsa Il ritmo E via discorrendo E da questo punto di vista Castori è il maestro Perché Non a caso Si è arrabbiato Con i suoi cronisti Sabato Lì in sala stampa Perché diceva Ma avete trattato D'abbollito E io ho 17 campionati Serie B Quindi qualcosa Nella vita ho fatto A un punto di stagalcistico E bisogna dargliene atto Da questo punto sempre di vista Non mi è piaciuto L'atteggiamento Di mister Andrazzoli Perché non ho visto Anche nella conferenza precara Quella voglia Che invece avevo visto In tutti i derby Con Cristiano Lucarelli Perché quando Andrazzoli dice Una partita come un'altra E l'ha messa giù Così un po' piattina Sta cosa Secondo me Non ha dato Il carburante giusto Alla squadra Detto questo Poi mi taccio L'espressione Di Federico Mazzarani Che fa il suo esordio In Serie B A freddo In un derby Il ragazzo è andato bene E non solo Non va crocifisso Ma va sostenuto Fino alla morte Ma quella sostituzione È l'espressione Dell'incapacità Del direttore sportivo Leone Perché ci siamo ritrovati A fare a gennaio Cinque uscite Di cui due importanti Celli e Pettinari E poi col senno di voi Erano importanti anche le altre E non abbiamo preso Nessuno Sabato Celli ci avrebbe fatto Non comodo Di più Quindi Primo colpevole E Pettinari pure E perché Rovaglia Piuttosto che A questo punto Spalluto Dai adesso Quindi Lì la finisco Poi quando Ricominciamo Io dico Poi la partita L'analizzeremo con calma Gli episodi E tutto quanto Io dico Che questo è Questo 3 a 0 A Perugia È solo La cima Dell'iceberg Perché Tutto nasce Secondo me Proprio Andiamo indietro Indietro Nasce stessate Con la letterina Famosa Quella barzelletta Ma tutto nasce Perché qui Qualcuno Si dimentica Che questa squadra Che non vale La Serie A Che valeva Dal quinto All'ottavo posto Con tutto Come abbiamo sempre detto Con tutto l'organico A disposizione Ma con Lucarelli In banchina Perché era l'unico Che tirava fuori Il sangue Dalle rape Con questa squadra È stata Stava tranquilla Serena Ai playoff In quinta posizione Senza nessun problema Dopodiché Il presidente Che non ci ha mai Spiegato Perché Perché La spiegazione che ha dato Fa ridere anche i polli Va bene Perché sulla base Di quelle spiegazioni Anderazzoli Da molto Doveva staccarsi Quindi non è quella La verità Ha rotto il giocattolo Secondo me Per un suo sfizio Personale E ha mandato via L'unico Che Faceva funzionare Questa squadra Squadra Che non va A Serie A Adesso Perché Ma perché Se tu vai a vedere Quanto valgono Le rosse Delle squadre Di Serie B La Ternana È Quattordicesima Per cui Anche questa idea Di questo Bandecchi Che mette Non si sa Quanti soldi Nella Ternana È un altro mito Di quelli Da sfadare Perché Ce ne stanno Solo Cinque squadre Che valgono Poco meno Della Ternana Perché ce ne stanno Un baglio Che valgono poco Sugli 11-12 milioni Ma Lo stesso Perugia Ne vale 14 Perché La Ternana Ne vale 16,6 Andate su Transfermarkt E contate Non è complicato Per cui Questo mito Di questi Grandi investimenti E poi Guardiamo Di questi Grandi investimenti Io mi sono presso La briga Di andare a guardare I grandi nomi Di mercato Comprati Quest'estate Allora Coulibaly Ha giocato 845 minuti Pari al 38% Dei minuti Disponibili Anzi Cassata 921 minuti Pari al 41% L'unico Che scavalla Al 50% E Favilli Che ha giocato 1211 minuti Pari al 54% Peraltro È quello che ha segnato Di più Sì ma compresse Coppe Italia Tutto Allora io dico Questi grandi acquisti In 3 arrivano Sennò Al 40% Delle presenze Ossia Neanche la metà Ok Ne giocano 4 su 10 2 su 5 Scegliete voi Va beh Quindi Un valore di squadra Che è già Basso Tra i più bassi Della serie B Si abbassa ulteriormente Perché se poi Questi che valgono Tecnicamente Un po' di più Non ce l'hai La squadra che vale Ancora 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 Chi è che la faceva Rendere al meglio Lucarelli Perché Perché era il terzo anno Con questo gruppo Magari i giovalitori L'aveva scelti anche lui Purtroppo Andrè Azzuoli Non l'aveva scelti Tra l'altro Quindi Basta questo falso mito De chissà quanti soldi Ha messo Bandecchi Bandecchi è il 14esimo Della serie B Come soldi messi Poi ci sta Quello che ha detto Bene lui L'operato Il DS Leone Che Io non so più in che lingua Dirlo Allora si parla tanto Che forse Stasettimana C'è il closing Con il nuovo acquirente Il nuovo proprietario Ecco io dico La prima mossa Che deve fare Questo nuovo acquirente E mandare via Leone E prendere un DS Più bravo Che non posso Insultare a mio piacimento In televisione Dopodiché Io richiamerei anche Lucarelli Tanto è sotto contratto Non costa niente Ah poi se ci fosse Una società nuova Volevo aggiungere una cosa Se faccio in tempo Detto questo Che noi perdiamo 3-0 a Perugia Con i giocatori contati Con Mazzarani Con Paghera Coffi in banchina Coffi in banchina Poi c'erano Vitali e Krapikas Non arrivavamo Non arrivavamo A 16 Cioè i 5 campi Non li potevi fare Perché No 18 ma sai che erano Eravamo 19 Però c'erano due portieri C'era Coffi Mazzarani Che poi alla fine ha giocato Donna Rumma Che stava in piedi Per 10 minuti 20 minuti Non ne avendo giocato mai Culibali Manco l'ha fatta entrare Ecco come ci siamo ridotti E sarà peggio E ci hanno Invece Siccome ci hanno Inzenzato Di proclami Di chiacchiere Tante chiacchiere Fatti Zero Ad oggi Ecco Che perdiamo 3-0 a Perugia Non mi sorprendo Per niente Andatevi a riguardare La puntata scorsa Ho detto Che per la prima volta C'avevo paura Quando non ce l'avevo mai avuta Nei precedenti termini Volevo aggiungere Purtroppo Scusa Devo dare pubblicità E dai tempi di Cassandra Che chi vedisce Le cose come stanno Viene preso a paraculate Me le prendo Però Quanto mi piacerebbe Sbagliarmi una volta Pubblicità Essere lube Significa esserti sempre vicino Prima abbiamo contenuto gli aumenti Poi abbiamo bloccato i prezzi Delle nostre cucine E ora siamo pronti ad abbassarli Solo noi potevamo farlo Entra in uno dei 600 store lube e creo Perché quando hai bisogno Noi ci siamo Sempre A Terni In via Farini Di fronte alla Coop Centro Pneumatici Maratta Pneumatici delle migliori marche ed occasione A prezzi imbattibili Riparazioni Riparazioni Sostituzione e manutenzione di pneumatici per auto Veicoli commerciali Veicoli commerciali Autocarri e rimorchi Regno Verde vi aspetta nella grande terrazza panoramica Grazie a tutti Grazie a tutti Bene eccoci di nuovo in studio A completare il discorso di prima E poi Tu lo farai meglio di me Questo che abbiamo citato prima Era il valore delle rose La cosa drammatica È quanto pesano gli stipendi Che invece noi Per stare in questa condizione Siamo uno di quelli che paga parecchio Di stipendi E abbiamo giocatori Da l'ingaggio forte Allora tu dici Beh cavolo Allora tra questi Ci avremo i giocatori più importanti Della serie B Com'è la storia? La storia è che in un articolo Che ho scritto È brutto autocitarsi Però insomma Hai fatto i compiti Una quindicina di giorni fa Parlavo proprio Di il discorso che Sempre prendendo riferimento Transfermarkt Nella classifica Dei 100 giocatori di serie B Per valore di mercato Il primo per esempio è Nandez Che vale oltre 6 milioni E via discorrendo A scendere Il primo della Ternana Che compare in classifica È Palumbo È 58esimo però Con un valore di mercato Di 2 milioni Il secondo E ultimo Nei primi 100 Della Ternana È Partipilo Che viaggia All'85esima posizione Con 1 milione e 8 Quindi questo che significa? La rosa si è depauperata Quindi non è aumentato Il valore della rosa Ma d'aggiungo di più In quell'articolo Lo scrissi Che il Frosinone Che è primo Ha fatto una campagna Trasferimenti Con un saldo negativo Di soli 100 mila euro Con un fermo Cioè Cacciando 100 mila euro Tra entrate e uscite Mettendoci dentro però Attenzione Le entrate e uscite Contabilizzate Nell'anno 22-23 Cioè a dire Se io prendo un calciatore Un anno prima Lo devo pagare Nell'anno in corso Lo contabilizzo Nell'anno in corso Beh il Frosinone Con prestiti No azzeccati Di più Turati Portieri in prestito Mulattieri in prestito Caso in prestito C'è una rosa Che è prima in classifica Sganciando poco Questo che cosa Ti dimostra Che se tu hai Un direttore sportivo Di grande livello Comunque all'altezza Tutto questo Per dire questo Ma non solo Ti ripeto Tu hai due giocatori Soltanto due giocatori Nei primi 100 In serie B Per valore di mercato Allora questo che significa Che Quando Sì però Voglio dire una cosa Ma in una società normale No non è normale Quando tu hai Un DS Che ti mette su Una squadra Che costa tanto E rende poco E vale poco Perché se poi La va a guardare Se ti ripete un giocatore Non ci fai una lira Vabbè questo però L'abbiamo Quello È un allenatore Ciononostante Te la fa viaggiare Al ritmo playoff Tu che fai Manni l'allenatore E teni il DS C'è qualcosa Che non mi torna A questo punto Perché allora proprio Errare umano Ma Vabbè però lo sappiamo Per se raggiungo Un'altra aggravante Tutto il settore giovanile Fa Pessimi risultati Tra ultimo Penultimo Mi pare una squadra Sta a metà classica Tutti quell'anno Dico ultimi o penultimi E vuol dire che non ne sale Manco uno Complimenti Grande lavoro Infatti non c'era nessuno In banchina Tornando a parlare Grandissimo lavoro Tornando a parlare del derby Invece Mi volevo Rilegare a quello Che diceva Te lo faccio dire Però mi premeva A spiegare Che Se uno dice Determinate cose Tra l'altro Lo dico Da due anni Ribadite quest'estate Ribadite a gennaio In tutti i modi Dice siete noiosi Ce l'avete con questo Ce l'avete con quello Non ce l'ho con nessuno Ce l'ho con chi va Chi fa andare male La mia squadra Del cuore Però adesso Prendetevelo sulla capoccia Non sono Un avversario politico Di bandecchi Di cui non me ne può Fregare di meno Politicamente Parlo di calcio E il calcio dice Qui è un disastro No ma non sono Poi scusa Ma fate finire la cosa Scusate Perché qui bisogna Parlare del derby Perché la gente Penso E non è che una partita La perdi così Ci sta una strada Per arrivare a questo Benissimo Allora però Io volevo ricollegarmi Infatti Gianni prima L'ha citato E io non l'avevo detto Al fatto dell'atteggiamento E l'ha detto lui Del Perugia Però Non è la prima volta Secondo me Che noi affrontiamo Una partita Soprattutto in trasferta Con questo atteggiamento Perché a Reggio Calabria L'abbiamo visto tutti A Reggio Calabria L'Igiotto Si è sceso in campo Con la stessa faccia Forse meno Anche a Cosenza Infatti dicevo A Reggio Calabria A Cosenza I fatti parlano chiaro Andrazzoli Vittoria in trasferta Zero Gol della Ternana Nel secondo tempo Zero Da quando ci sta Andrazzoli Da ottobre Da ottobre Ma con Andrazzoli Tutte Sì Fammi finire il discorso Nel senso che Voglio dire Forse Questa mancanza di convinzione Comincia a diventare Grave Perché a Reggio Calabria Contro la squadra Delle ultime 5 partite L'ha perse tutte E ha vinto solo con noi E poi ha vinto Ve lo ricordate Perché Pettinari Fa gol e non esulta Poi si mangia un gol Poi ci fanno un bareggio Con tutta la difesa ferma Poi ci fanno il 2-1 Dopo che l'Albio Gli ha annullato il gol Con tutta la difesa ferma Vai a Cosenza Contro una squadra Ultima in grassifica In dubbio Non mi pare Timorosi Timorosi Giochiamo una partita Alla fine facciamo un'occasione Ma proprio Come posso dire Per forza di inerzia Ma non proviamo neanche tanto A vincere la partita E col Perugia È la stessa partita Solo che abbiamo dato Una squadra Ha detto bene Gianni Io non l'avevo sottolineato Molto più affamata di noi E il risultato È che Ci annullano il gol A loro glielo danno Ma loro Ma loro quel gol Non l'avrebbero mai fatto Convalidare Perché avrebbero circondato L'arbitro E alla fine prendi 3 gol E chi poi dopo Fa la figuraccia Oltre ai giocatori Sono i tifosi Perché se permetti A me da tifoso rosso-verde Una sconvitta 3-0 Contro una squadra Secondo me Nella quale Io devo dire Castori sta facendo Un grandissimo lavoro Ma la squadra è motesta E prende il re a zero Mi rompe Un po' mi scoccia Poi se sento Che i miei giocatori L'allenatore Ride nell'intervallo Quegli altri Non zangavolano Prendiamo un'ammunizione sola Paghera Ripeto Che è un ragazzo E lo conosco Un ragazzo indirigente Ci mette la faccia Ma fa i complimenti a Perugia E insomma Se permettete E il presidente Fa il figlio di un uriere Posso essere un bo scocciano Posso essere un bo scocciato E bisogna scendere in campo No me li faccio appunto A quello che diceva Gianni Con un'altra faccia Dalle prossime partite In casa E fuori casa Si scende in campo Con vitti Anche perché ancora La salvezza Che questo pizzico di cattiveria La squadra Gli nutava Lucarelli Può essere Può essere Perché Qua è l'unico fattore Che è cambiato Può essere Perché questa squadra Cattiva agonisticamente Non è mai stata Però ve lo ricordate Lo citavo qualche settimana fa Con Lavellino In Coppa Italia Vennero a giocare Questi signori Dell'Avellino Con una partita Abbastanza maschia Forse Un pochino Gli pizzicava ancora La sconvitta del cambiato Mi ricordo che soprattutto Falletti fu Bezzagliato E mi ricordo Che Lucarelli Un momento dalla panchina Si sentì Perché all'epoca Si giocava ancora senza Ragazzi guarda Che io non so Quelli che stanno in campo Io vengo là E disse Insomma Non mi ricordo Eh me lo ricordo io Eh vabbè Diciamo che Non lo volevo Dall'alto della stazza 1,90 Per 800 kg Diciamo Ecco Che poi Non è brutto dire quello Però insomma Nel senso che Quindi era lui Dalla panchina Che interveniva Per difendere Sti ragazzi Che secondo me Come cattiveria agonistica Non hanno mai brillato Ma ti dico un'altra cosa Ma santo padre Che se tu lo nomini A un berugino Rischi che ti renda male parole Ma Quando si è reso conto Dell'errore fatto Con Baldini Ha fatto un marcia indietro E rimesso Castori Ed è la sua fortuna Qui perché Non si può fare lo stesso Perché Adesso abbiamo preso Anderazzoli Deve andare bene Per forza Anderazzoli Ego Superbia Niente che abbia Che fare con il calcio Però Henry L'errore più grave Oltre ad aver preso Anderazzoli Magari venne subito Però Henry Scusa L'errore più grave Anche dice che arriva Endo giovedì C'è il close Vediamo Per me è una bufa Però io lo sai Io non sono stato mai tenero Con Anderazzoli Però se tu prendi un allenatore E non gli prendi nessuno L'allenatore Prima se rimette Non è un problema Infatti forse Probabilmente Anderazzoli Se non avesse rinunciato Anche allo stipendio Dell'Emboli A quest'ora Secondo me Avendo visto Alcune sue espressioni Io penso che lui Il pensiero di dimettersi C'era Anderazzoli ha sbagliato Due cose fondamentalmente A che non conosceva I giocatori Quando è venuto B che non conosceva L'ambiente Presidente Direttore sportivo Quando è scena Perché lui Secondo me È un allenatore Che da un punto di vista Tattico Non gli puoi dire niente Però è una persona Che non ha quella grinta Quella determinazione Che serve in casi come questi In ambienti come questi Lui è perfetto per l'Emboli È perfetto per il Sassuolo Bravo Per l'Udinese Per squadre come queste qui A Terni Non è che non va bene Ma non se l'aspettavo Ci vuole lì la frusta Ma non tanto quei giocatori Perché come in tutto Ma ci vuole una società normale Che non è quella della Ternata Mi dispiace Un po' di tattica Dai Tra l'altro scusa E finisco a proposito Del direttore sportivo Voi già Tra l'altro Oltre a errori Sparelo Non ci mette mai la faccia Tra l'altro Oltre a errori di mercato Colaborosi Ma noi Mi ricordo Pagni Non stiamo parlando di Allodi Stiamo parlando di un bravo Direttore sportivo Normale Certo Che nei momenti di difficoltà Della squadra Quando eravamo quasi I processi colliberani Veniva tutte le volte A cercare Di combattare l'ambiente Di dire ancora c'è speranza Cioè questo signore Bisogna Io lo dico Dice non gli piace parlare Benissimo A parte che è un difetto Insomma la faccia Mi se ce la mette Perché l'allenatore Come era per Lucarelli Adesso vuole Vandazzoli E' isolato Ma scherzi Bandecchi va per i fatti suoi Per i suoi Come posso dire Le sue dichiarazioni E il direttore sportivo Bisogna che una mano O lui Voglio dire Una mano Bisogna che l'allenatore Gli la dai Ma anche Come posso dire Per chiedere scusa Ai tifosi Qualsiasi cosa Per giustificare Potrebbe dire Il mercato purtroppo Avevo Come posso dire Una strategia Purtroppo dal 20 gennaio Non l'ho potuta rispettare No ma anche perché Gigi Bisogna che metta Un po' il dito Nella piaga L'anno scorso Sempre lì In sala stampa L'ho intervistato io Il direttore sportivo Quando abbiamo fatto Uno a uno Lì in quell'occasione Si presentò Al derby con il Perugia Uno a uno A maggior ragione Si doveva presentare Sabato sera Quando ne abbiamo presi tre Perché Per te non era stato piacevole Figurate per me Quando sto passando Sotto la curva nord No Passa poi sotto la curva nord Perché devi passare da lì Per carità E' uno sport Il calcio Però è proprio Quando ne prendi tre Che devi venire in sala stampa Perché è troppo facile Venirci quando fai un pareggio O quando vinci Ma cioè Il direttore sportivo Direttore Direttore Tu dirigi L'area sportiva E non significa Dirigerla Soltanto Fare un po' di calcio Marcausi È stato tutti i giorni Tutti i giorni Tutti i giorni Io le conferenze stampa L'avrei fatte Insieme a lui Tutte Insieme al mister Anche perché Lucarelli ci aveva Si portava alle conferenze stampa Alessio c'è Mental coach No Alessio Qualche volta Veniva preparato Poi qualche volta Magari Lucarelli Era pure nervoso Per affari suoi Magari se avessi avuto vicino Un direttore sportivo Qualche volta Vanini Alle conferenze stampa Andrea Zoli È solo Cioè Lorenzo Modestino E basta No vabbè Dai Su dove ci è studiato Un po' di tattica Sì allora Vediamo delle cose Ma veramente Più che altro Per far vedere Alcune cosine Qui Allora premessa Nessuno vale buttare Addosso la croce a Falletti Sia ben chiaro Questo qui Proprio Lo devo mettere Scolpito nella pietra Quello che faccio vedere È quello che mi sono Un po' incacchiato Anche con Partipillo La scorsa volta Cioè Che non ci sono Di giocatori Che calciano Con il piede debole Falletti Qui c'è un'occasione Clamorosa È solo Sta proprio la palla Sul dischetto di rigore Può colpire Di prima Di sinistro Basta un piattino Secondo me La mette dentro Invece Cincischia Si rigira Per cercare Di tirare di destro I difensori Ce lo sanno E quindi Lo aspettano Sul lato destro E infatti Finisce qua Però Cesar tira anche Solo non è il tuo piede Ma tira Next Questa è la seconda Questa è l'azione In cui Falletti Non Lascia Diciamo La palla Per il velo A Palumbo Che sarebbe andato in porta Perché Qui la difesa del Perugia Fa la diagonale Tecnicamente È giusta La diagonale Ma va fatta Dove è la riga gialla Non dove sta La riga nera Dove l'hanno fatta loro Quindi la fa Bassissime E tutti si sfalzati Dovevano stare Proprio dalla riga gialla In su Falletti Anche qui Riceve la palla E poi dopo Non fa il velo Per Palumbo Che infatti Si arrabbia con lui Per questo Secondo me L'ha visto Però Egoisticamente Che da un certo punto di vista Ci può anche stare Non attaccato Però Fa la stessa cosa di prima Cioè Calcia di destro E Di vanno su destro Tiro deviato Avanti Questo è il primo gol È il lancio Che fa Capezzi Calcia indisturbato Senza nessuna pressione Il discorso Diciamo prima Quando manchi Di terminazione Di corsa Di ritmo Non vai a pressare In maniera feroce Sul portatore di palla E ti ritrovi Con tre giocatori Palumbo Di tacchio Che sta al centro E lì a sinistra Mi pare che sia Martella Che stanno lì Gli guardano E Capezzi C'ha Quanti sono? Cinque metri di raggio? Cinque metri di raggio Per calciare indisturbato Una cosa che non si vede Poi parliamo Anche di questi gol Dati e annullati Perché Sì sì Questo è il secondo gol Stessa cosa Scarsa pressione Sul tiro di Santoro Ah beh Questo è un marchio De fabbrica Della Ternana Abbiamo preso tantissimi gol Anche di tacchio Come avete fatto caso Non è il giocatore Di qualche mese fa Secondo me Si è un po' Come posso dire Non è il giocatore Di qualche mese fa Il termine tecnico È scazzato Bravo Eh Te l'ho voglio dire Non volevo dire Però ecco Guarda dove stai Secondo me è meno convinto Di qualche settimana Sì perché Io mi sono fatto un'idea Perché ti potrebbe anche dire Di tacchio Senti boh Ma io mi devo stare Corri E' questo che dicevo Quando hai giocato No? A me mi capitava Che se Tu hai due giocatori Che Per undici Corrono E quegli altri Otto Guardano Un po' De girano Ma quando l'ambiente In generale È così Perdi un po' Di motivazione Adesso bisogna preoccuparsi Abbiamo finito? Sì Erano quattro Tutti finiti Oh Che minutaggio stiamo Da fine prima parte Direi Giusto? Allora Fine prima parte Ci vediamo tra poco Per la seconda Sì 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 Grazie a tutti.